...interamente da brivido. Cosa stiamo per andare a vedere questo palco? Dunque, a breve su questo palco, l'arco di Graffa e la Roma, che sarà progressabile ai campieri, nei campi Irland, in un modo molto interpretativo. Non è una semplice spiata di abiti, è proprio di fare il video, dargli un altro carattere, e il palco dei campieri. E allora, amici, chiamate coloro che sono in giro in International per assistere a questa incredibile sfidata. Io ringrazio Lisa Lambertini per la tua presenza e a questo punto vi auguro una splendida show insieme agli amici di Apevare. Grazie a tutti! Milano! Autore dei sovrapposti 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione